Finalmente a casa, Aurora Ramazzotti è tornata a Milano col figlio neonato Cesare Lefoto. Aurora Ramazzotti ha lasciato la clinica Sant'Anna in Canton Ticino, in Svizzera. Quella dove 26 anni fa è nata lei e dove ha voluto partorire il suo primo bebè. L'influencer e conduttrice è tornata a Milano con figlio neonato Cesare. La foto pubblicata sulla copertina di Chila Immortale insieme al compagno Goffredo Cerza mentre esce dalla struttura sanitaria. E il 27enne a portare il bambino nell'ovetto, il ragazzo sorride gioioso ai paparazzi appostati fuori la struttura sanitaria. Aureo casual, cappotto nero lungo, borsa bianca e comode Snackers ai piedi. Porta gli occhiali specchiati e in testa un berretto con visiera. Anche lei sorride, è iniziato un nuovo capitolo della sua vita ed è pronta ad affrontarlo al meglio. Affare da scorta alla Ramazzotti per il rientro nel capoluogo Lombardo, dove vive. In Svizzera sono arrivati mamma Michelle Hunziker, 46 anni, la bisnonna Ineke. 79, e il migliore amico di Aurora, Tommaso Zorzi, che ha appena spento 28 candeline. Aurora è finalmente nell'appartamento dove si era preparata ad accogliere il suo bambino. Assapora dolcemente e con grande calma la maternità. Sul social condivide pochissimo. Posta solo un'immagine di Cesare, nato il 30 marzo, e un altro scatto in cui si vede la sdraietta con il bimbo dentro e il suo gatto che la guarda. Cos'è questa puzza di latte, scrive ironicamente lei, interpretando, con la frase scherzosa. Il pensiero dell'animale, curioso con bambino appena arrivato e che ancora non conosce. Nei giorni scorsi Aurora ha scritto ai fan, sto recuperando. Assaporando questo vento di nuova vita. Navigando ogni momento, perché ogni momento è una scoperta. Vuole prendersi del tempo per sé e la sua famiglia, poi tornerà attiva. Ma prima c'è quello che lei considera la priorità assoluta, suo figlio. Autore dei sottotitoli e revisione a cura di QTSS